Intervento chirurgico mini-invasivo su un rene policistico gigante. È stato sicuramente un caso di estrema gravità. A un signore di 58 anni gli si era dilatato enormemente l'addome per la compressione esercitata da un rene policistico, provocandogli una quasi completa incapacità di alimentarsi e muoversi. Nell'unità operativa complessa di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas dell'azienda ospedale Università di Padova, diretta dal professor Paolo Rigotti, la professoressa Lucrezia Furian, chirurgo e primo operatore, ha guidato l'equip di nove figure professionali che è riuscita a rimuovere la gigantesca massa con la sola piccola incisione di 6 cm. Il rene policistico presentava un peso da record di 23 kg. L'intervento effettuato qualche giorno fa in laparoscopia è durato 4 ore. Il paziente, dopo soli 6 giorni di degenza dall'intervento, è stato dimesso senza complicazioni.